Un paio di sistemini per andare a recuperare eventuali errori che commettiamo mentre lavoriamo. Ipotizziamo che siamo su Explorer Resource e accidentalmente spostiamo una cartella dentro a un'altra cartella. Accidenti l'ho persa, dove è finita? Non me ne sono reso conto. Come faccio ad annullare questa operazione? Su Windows esiste la combinazione di tasti CTRL più Z. Premendo questa operazione annulleremo l'ultima operazione che abbiamo fatto all'interno di qualsiasi software stiamo utilizzando. In questo caso eravamo in Explorer Resource ma ipotizziamo che siamo su Excel. Cancelliamo un po' di cose. Ho cancellato troppe cose e devo annullare le operazioni che ho fatto. Quindi faccio un bel CTRL Z, CTRL Z e ancora CTRL Z. Vedete che c'è una memoria quindi su ogni software si memorizzano il numero di operazioni che andiamo a fare e le possiamo annullare. Ipotizziamo però che abbiamo annullato troppe operazioni e dobbiamo ripristinare perché abbiamo fatto troppi annullamenti. In questo caso basterà utilizzare la combinazione CTRL più Y. CTRL più Y praticamente va avanti, CTRL Z invece va indietro.